Ciao a tutti amici di Orange Italia, oggi vi presentiamo il Galaxy Nexus costruito su base hardware Samsung sulla quale troviamo l'ultima versione Android 4.0 Ice Cream Sandwich. A livello di caratteristiche tecniche l'aspetto che colpisce immediatamente è il display da 4,65 pollici, Super AMOLED HD quindi un'evoluzione del Super AMOLED Plus con una risoluzione di 1280x800 pixel. Sotto la scocca è presente un processore Dual Core Home App 4 versione 4460 da 1,2 GHz. Nella sottosezione grafica troviamo una PowerVR SGX540, 1 GB di RAM e 16 o 32 GB di memoria interna in base alla versione che scegliamo. Memoria non espandibile in quanto non è presente uno slot per microSD. Quindi in fase di acquisto facciamo attenzione alla scelta del modello in base alle nostre esigenze. A completare il tutto abbiamo un chip NFC per lo scambio dati, Bluetooth 3.0, Wi-Fi N retrocompatibile, GPS e barometro che aumenta la velocità e la precisione del GPS in fase di aggancio dei satelliti in navigazione. Nella parte frontale notiamo la totale assenza di tasti fisici. Troviamo la fotocamera frontale da 1,3 megapixel, i vari sensori di prossimità e luminosità. Nella parte bassa troviamo sempre comodo la notifica. Lato destro tasto power e connettore per la docking station. Lato sinistro bilanciere per il volume. Parte superiore completamente liscia. Mentre nella parte bassa troviamo il connettore micro USB, il microfono e il connettore per le cuffie. Scelta obbligata per quest'ultimo in quanto nella parte superiore visto lo spessore di soli 8,8 mm e la forma del terminale non avrebbe mai trovato spazio. Sul retro è presente la fotocamera da 5 megapixel in grado di girare filmati in full HD a 1080p, il flash e l'altoparlante posizionato nella parte bassa centrale. La batteria è da 1750 mAh e il peso complessivo è di 135 grammi. Direi che per la parte hardware è tutto. Nel prossimo video analizzeremo la parte software e scopriremo più da vicino l'ultima versione di Android 4.0 che equipaggia il Samsung Galaxy Nexus. Ciao a tutti e a presto per il nuovo video.